Il Signore sia con voi, e per voi il tuo Signore, al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai Suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse, salute a voi. Ed essi si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati, dietro una buona somma di denaro ai soldati, dicendo, dite così, i Suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del Governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore Parola del Signore Sialodato Gesù Cristo Il Signore è risolto, rallegriamoci tutti ed esultiamo, perché Egli regna in eterno. Alleluia. Non manca mai la gioia durante l'anno liturgico, dove tutto, in un modo o nell'altro, si riferisce alla solennità pasquale. Ma certamente in questi giorni essa acquista particolare risalto. La Chiesa ci introduce nella gioia pasquale attraverso i testi della liturgia. Le letture, i salmi, le antifone ci ricordano che Gesù, con la sua risurrezione, ci ha riscattato dal peccato, dal potere del demonio e dalla morte eterna. E ci ricordano anche che siamo nati alla vita soprannaturale nel battesimo, in cui siamo stati costituiti figli di Dio. Per ciascuna delle apparizioni del risorto, gli evangelistici hanno descritto la gioia degli apostoli nel vedere il Signore. La loro gioia nasce dall'aver veduto il Signore, dal sapere che Egli vive, dall'essere stati con Lui. La gioia vera non dipende dal benessere materiale, dal non soffrire privazioni, dall'assenza di difficoltà, dalla buona salute. La gioia profonda origine in Cristo, nell'amore che Dio ha per noi e nella nostra corrispondenza a tale amore. Nell'ultima cena il Signore non aveva nascosto agli apostoli le avversità che li aspettavano, però aveva anche promesso che la tristezza si sarebbe trasformata in gioia. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Tali parole, che in quel momento potevano sembrare loro incomprensibili, si avverarono pienamente con la risurrezione di Gesù. Poco tempo dopo, dopo quelli che prima erano stati in preda alla paura, se ne andranno dal sinedrio lieti di essere stati oltreggiati per amore del Signore. Si compie anche oggi la promessa del Signore. Niente potrà toglierci dal cuore la nostra gioia, né il dolore, né la calunnia, né l'abbandono, né le nostre debolezze, se stiamo però uniti al Signore. Questa è l'unica condizione, non separarsi da Dio, né permettere che le cose ci separino da Lui. Allontanarsi da Cristo, finire fuoristrada, ecco l'unica possibile fonte di turbamento, capaci di rapirci questo dono così prezioso. Impegniamoci, pertanto, a trovare il Signore nel lavoro e in tutte le nostre attività, mortificando i nostri capricci ed egoismi nelle più varie situazioni della giornata. Ciò servirà a mantenerci attenti alle cose di Dio. Se talora dovesse capitarci la disgrazia di allontanarci da Dio, ci ricorderemo del figlio al prodigo e con l'aiuto del Signore torneremo di nuovo a Dio con cuore veramente contrito. Così, con molti atti di contrizione, l'anima vive in uno stato abituale di pace e di serenità. Il Vangelo della Messa di oggi fa menzione a un gruppo di donne. Non è piccolo il merito di queste donne rimaste fedeli al Salvatore e che lo avevano accompagnato e aiutato durante il suo ministero. Esse sono rimaste presenti ai piedi della croce con un coraggio che ha messo in risalto la viltà della maggior parte degli apostoli. Sono le stesse che per prima accorrono al sepolcro, che lo trovano vuoto. Ascoltano le parole dell'Angelo che le rassicura. In seguito è Gesù stesso che appare loro. Erano venuti alla ricerca di Gesù morto. Ora lo incontrano vivo. Gesù dice loro, non temete, poi affida loro un incarico, andate ad annunziare ai miei fratelli. Queste donne hanno meritato di ricevere la prima apparizione del risorto. sono state anche le prime a darne testimonianza. Le parole che Gesù ha rivolte alle donne oggi le rivolge anche a noi. Non temete, andate ad annunziare. Dopo la testimonianza delle donne venne quella di Pietro, di Giovanni, degli altri apostoli, di tante generazioni di cristiani, nel corso dei due millenni trascorsi. Con la vita l'incarico di annunciare Cristo risorto, unico salvatore dell'umanità. Davanti a tanti che soffrono disorientamento e delusione, facciamoci testimoni della vita e della speranza. La nostra testimonianza sarà credibile se prima di annunziarla sapremo farne esperienza personale nella nostra vita di ogni giorno, vivendo da risorti. La risurrezione di Gesù non è soltanto una notizia o una verità da conoscere o da ricordare. È una forza di vita che il risorto comunica a ognuno di noi e ci chiede di comunicarla anche agli altri. Uno dei momenti privilegiati della nostra esperienza con Gesù è l'Eucarestia. Ogni volta che la celebriamo dovremmo uscirne come le donne del Vangelo trasformati, pervarsi dalla gioia di aver incontrato il Signore e disposti a comunicare alla nostra famiglia, alla nostra comunità, al mondo intero il messaggio di vita che Gesù risorto ci ha affidato. La risurrezione di Cristo ha inaugurato una nuova era e un nuovo mondo nel quale non è la morte ad avere l'ultima parola, bensì la vita eterna per tutti quelli che credono veramente in Lui. Sialudato Gesù Cristo! Sialudato Gesù Cristo! Sialudato Gesù Cristo! Grazie! 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 Grazie!